no ma G2 Martin e Jankos chi è? non sapevo che era Jankos mannaggia dov'è che sarei mid lane? posso giocare io support? lo Jankos pazzo sgravato basta che non se non gioca a Nidalee siamo a post io ovvero 3 A3 esce bannato? no vabbè devo doggiorare ho solo Lux e Brand questa è la tiro dritta sennò posso giocare Lux e support o altrimenti Zack Zack support non può essere tanto male cioè io Zack so giocare devi saltare fai la Q che cacchio devi fare con Zack? questo devi fare no no champion qual è l'alternativa? Brand Lux è molto più pericoloso ragioniamo lo so che sembra strano però a me sembra la cosa più sensata non è detto che vada male posso giocare a Zack support ahem disastro oh è un support Zack contro una Janna e poi abbiamo un Wukong mid lane e un Pantheon top lane ok questo rende perfetto non è vero ragazzi il support gameplay è facile gioca safe fatti carriare il port è così facile è stato molto facile sono state ganked io sono state ganked stanno andando top stanno andando top zack me focus stanno andando top bot sams we smurfing we smurfing down the bot solo uno solo uno gli ha dato l'escape gli ha dato Pantheon potete aiutare? eh adesso ho traggito il problema è che LBR for sure non vengono questo ci sono 5 persone qui ma almeno abbiamo il drake che significa che non possono il drake che significa che non possono snobballare con il drake stanno snobballando con snobballando io ho 3 secondi all'e distano tutti sì ma adesso stanno distando con la sun non vogliamo provare? andiamo qui 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 stanno distante I so like, I'm terrible We killed the big boss but now we are kinda splitting up Malvucan is kinda commited into the killing Kai'Sa department ok, so this guy has no flash I think he's gonna die as well, actually what is he? He seems out Questi sono fuori L'hanno nemmeno riuscita oh lai baron 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 no no si 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 posso rucare il stanger bel fight da parte vostra mi ha rannato un po' oh dai è solo un dal grido da qua questo è enorme, mamma mia questo è quello credo ho detto che sarei salvato la mia smag e l'ho salvato, e ora lo abbiamo nel nashop, se l'avessi usato c'è una possibilità che non l'avessi qui quindi immagino di perdere un solo game preferisco perdere un game di stage non l'ho salvato non l'ho salvato non l'ho salvato non l'ho salvato urgot non è l'ho salvato l'ho salvato l'ho salvato l'ho salvato l'ho salvato come team siamo veramente basta basta non c'è Ian anche se oddio mi stima dip 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 go 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 andiamo 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 se il mio team ends il game senza me quindi so be it ma almeno possiamo do drag se non è in beh ci pensava Ian cosa fare il drag io sto tankando anche la passiva sì, mio team è molto forte se si enderanno senza me ho pensato che erano useless ma appena non sono sì, è facile no? siamo vicinissimi SAGE è stato molto molto SAGE se Iancos fosse rimasto avremmo giusto che peccato fuck comunque dovrei dire lo stesso non so che ho sbagliato sta trollando quello è probabilmente non solo ma oh shit oh shit è solo quindi è giocato quindi è giocato è giocato nante guarda sto giocando quello che salta è giocato 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 che ci sono quello che st strike si è giocato è giocato Papalo stable Mi potrebbe sentire, ma non l'ho fatto! Oh, bisogno, sì. E io esci! Ma non stanno finendo! Sous-titrage ST' 501